Maurizio, ma che cavolo sta succedendo? Poi stanno iniziando a partire, io non capisco più nulla Ma perché mi dicono tutti guascezza, guascezza, che sta succedendo? Ma io non lo so, dobbiamo scoprirlo E' una cosa che mi sta preoccupando realmente Ma io lo so, per esempio questa qui Ma signora, ma lei stasera viene alla guascezza? Ma certo che si, non posso mancare Ma che cos'è questa guascezza? Non lo so, però mi hanno detto che è bellissimo Va bene, allora diamo appuntamento alla guascezza Alla guascezza, ora vediamo se ho altre notizie, ve le dirò